Vuoi fare business online? È importantissimo capire in che settore ti vuoi buttare, quali sono le opportunità, studiare, capire le competenze che hai, se le puoi monetizzare, va tutto bene, ma altrettanto importante, forse più importante, è l'approccio mentale che tu hai quando fai business online. Oggi parliamo di questo, del mindset per il business, perché come nasce l'idea di questo video? Ieri ho fatto un video in cui analizzavo tre trend per business online da sfruttare nel 2023 e qualcuno di voi ha commentato dicendo no, praticamente è tutto inutile, è tutto impossibile. C'è sempre qualcuno di voi che mi commenta, che mi dice no, io non faccio niente, questa roba è inutile, non si può guadagnare online, è tutto inutile. E questo approccio mentale, ragazzi, vi frega, vi blocca e non vi fa vedere le opportunità che in realtà ci sono in rete. E qui mi viene in mente un film che sto cercando di vedere ma che non riesco a vedere da quando ho una bimba piccola, che ormai è arrivata a 16 mesi comunque, i film per vederli ci metto a settimana. Però avevo iniziato qualche giorno fa un film su Netflix, si chiama Troll, ok, questo film, non so se l'avete visto, non voglio spoilerare, non mi dite niente perché non l'ho finito di vedere. Però all'inizio si vede appunto questa ricercatrice, no, archeologa, non so, con il padre che gli dice ma tu per credere vuoi vedere? No, non devi credere soltanto dopo che hai visto, in realtà per vedere devi credere. Ma quanto è vera questa frase? Scusate, ci devi credere per vedere, prima ci devi credere, puoi vedere le opportunità, ma ci devi credere, devi avere con lo stato mentale di azione e di positività, nel senso se sei scettico, perché la roba dello scetticismo è un gran casino, vedete, prendete l'esempio del campo della formazione, ok? I corsi online, allora ci sono gli scettici, gli scettici dicono no, quei corsi sono inutili e non fanno formazione, ma ci rendiamo conto? Cioè tu sei scettico su quello che potrebbe farti cambiare la tua vita e non sei scettico su ciò che ti fa rimanere nella tua posizione attuale. Dovresti essere scettico di tutto quello che hai fatto perché dovresti guardare i risultati e questo è un altro grande problema che ho scoperto, grazie alla formazione in realtà, studiando. Ho scoperto, si scoprono delle cose che sembrano ovvie, se adesso te le dico, ma se non te le dice qualcuno, non sono ovvie. Che cosa ho scoperto? Ho scoperto che la gente non ragiona, proprio non gli viene naturale di ragionare per risultati. Ora io te la metto così, io guardo i risultati di quella persona e poi decido se è una persona valida oppure no, ok? Se è una persona di successo oppure no. No, la gente non ragiona così, non ragiona così, neanche io ragionavo così prima che mi facessero notare questa cosa. La gente vede le persone e in base alle sue opinioni, alle opinioni, si fa un'idea. Ma vogliamo ragionare per risultati? È semplicissimo, è come capire se di fronte hai un impostore, una persona poco in gamba. Guarda i suoi risultati, guarda nella sua vita che i risultati ha avuto, sia professionalmente che nelle relazioni, chi conosce, chi non conosce, guarda i risultati, ok? Ora mi sono perso, perché sono finito a parlare di questa cosa? Ah, perché la gente è scettica e magari, diciamo, tu hai studiato, hai fatto la scuola, ti hanno insegnato determinate cose, la scuola ti ha insegnato a pensare in un certo modo, naturalmente dopo che sei stato 5 ore tutti i giorni a scuola ti è venuto naturale pensare che dovevi andare a lavorare in un posto che 5 ore ti doveva tenere chiuso lì, 8 ore, ti è venuto naturale. E poi ti guardi attorno, se guardi i tuoi risultati, i tuoi risultati dicono che questa cosa non funziona, non va bene perché tu lavori 8 ore al giorno, anche 9, se ci metti il tempo che ci metti, se calcoli anche il tempo che ci metti per arrivare al lavoro, sono 10 ore, ok? E non hai i soldi, non hai i soldi e non hai il tempo. Allora qualcosa vuol dire che non va bene, però no, tu continui, è quello, perché ti hanno insegnato così, perché non metti in discussione mai niente, non ragioni per risultati, ma i tuoi risultati parlano chiaro. Quello che ti hanno insegnato dovresti essere scettico su tutto il percorso che hai fatto, invece no. Vedi un video su YouTube di uno che si sponsorizza, sponsorizza un corso che ti propone un metodo di guadagno e sei scettico a priori. Invece di informarti, vedere ma c'è gente che guadagna online, perché c'è gente che guadagna online, porca miseria. Vai a vedere, ma come fanno a guadagnare? Non essere scettico. Inizia ad informarti, inizia a credere, ma devi credere perché ci sono i risultati, ma devi avere la mentalità giusta, perché poi se ci credi, vedi, ok? Ma devi imparare ad analizzare, ok? Quindi da questo film troll che non ho neanche finito di vedere e da questa frase, che il padre dice alla ricercatrice, bellissima, dice tu vuoi credere solo perché crederai solo se vedrai. Ma no, cavolo! Tu non crederai. Tu non devi vedere per credere. Tu devi credere per vedere. È meravigliosa questa frase. Questa frase ci dice che riassume quello che è davvero possibile se noi crediamo in qualcosa. Quella cosa diventa possibile. E quando capisci questo, che non è semplice, io lo so, non è semplice, ma quando lo capisci tu vedi le opportunità che ci sono. E se non hai questo approccio, lascia perdere. Rimani scettico in quello che sei scettico, continua con la tua vita, i tuoi risultati parleranno chiaro, altre persone avranno altri risultati perché non saranno stati scettici. Cioè stiamo parlando di mettere in discussione il fatto che una persona può formarsi anche dopo la scuola che sembra una bestemmia, ok? O dopo l'università? Dopo l'università inizi a studiare le cose che ti servono veramente per cambiare la tua vita, paradossalmente. No, cioè la maggior parte delle persone non studia, non si forma, non ha questa attitudine alla crescita personale e non vede quindi perché non crede, ok? Quindi io ti posso fare milioni di video, ma se tu pensi che è tutto inutile, che sono tutte fregature, non farai mai niente. Però io lo dico per te, metti in discussione quello che sai e guarda i risultati, poi vedi le altre persone. Poi è ovvio che se ti sembra tutto negativo, che è tutto inutile, sei una persona così, non andrai da nessuna parte. Tu devi credere per vedere e poi ottenere e cambiare la tua vita, ok? Mi sono rifatto questo film per spiegare, spero di aver ispirato qualcuno a dare uno shock alla propria vita, a mettere in discussione, a iniziare a guardare i risultati. Ma i miei risultati quali sono? Sto dieci ore a lavorare, quindi due, tre ore bloccato nel traffico, non posso andare in ferie, non posso... Ma allora di che stiamo parlando? Forse dovrei mettere in discussione tutto quello in cui ho creduto, ed è questo il problema, la cosa più difficile, ragazzi, perché io non me lo scorderò mai, l'ho già raccontato in un video. Vedo un cavolo di video. Io, ragazzo, cresciuto in una famiglia, papà impiegato, mamma casalinga, quindi con la riprogrammazione mentale che una famiglia del genere fa ad un bambino, non do la colpa a nessuno, è naturale, perché, ok? Non sono nato in una famiglia ricca, quindi sono stato programmato, vi metto il video nelle schede sulla programmazione mentale se volete approfondire, sono stato programmato a credere in determinate cose, quindi a determinate cifre, a determinati soldi, che sono tanti o pochi, che poi ho scoperto essere cifre inventate, ok? Perché guadagnare 1800 euro al mese non vuol dire niente, una persona... Molti di voi magari reputeranno 1800 euro una cifra alta, perché sono stati programmati. Ma 1800 euro li puoi fare in due giorni, in un giorno, ok? Che cosa è successo? Vedo questo video di questo imprenditore è normalissimo, che diceva di fare... di aver iniziato con una prima azienda che gli faceva fare 5 milioni di lire al giorno. Io non mi scorderò mai la mia reazione. Ho pensato, questo sta dicendo una marea di cazzate, queste sono tutte cazzate. Mio padre guadagnava, non lo so, 2 milioni di lire al mese, faceva l'impiegato, ora è pensionato, al tribunale impiegato, 2 milioni al mese di lire, erano altri tempi con il lavoro dipendente forse aveva senso, ne abbiamo parlato già in altri video, questo mi dice che fa 5 milioni di lire al giorno. È impossibile, chiaro, è impossibile, non ci puoi credere. Però grazie a YouTube che ringrazio, vedi quel video, vedi quell'altro, 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 allora comincia a penetrare, dice ma fammi vedere, ma che cavolo, in che cosa credo io? Non è che ci sono delle cose che io non so, perché c'è un'altra cosa che dovete sapere. Tu guadagni 1.200 euro al mese? Io guadagno 10.000 euro al mese? 20.000 euro al mese? Faccio un esempio. Guadagno 30.000 euro al mese, tu ne guadagni 1.200 euro? Un'altra persona ne guadagna 50.000 euro al mese? Sebbene, quella persona che guadagna 50.000 euro al mese e tu ne guadagni 1.200, come fa a guadagnare 50.000 euro e tu 1.200? Probabilmente sa qualcosa che tu non sai. Capite? È così. Allora imparale quelle cose, ma per impararle veramente devi aprire la testa e credere. E allora poi potrai vedere. Per chiudere, diciamo, la parentesi in questo video, che si ricollega a questo film troll, che spero di concludere un giorno la visione, perché era carino, ma poi ci siamo addormentati. Noi abbiamo, io e la mia compagna, dopo le nove e mezza mettiamo a letto la bimba, mangiamo, poi c'è un... abbiamo poco tempo, dalle dieci alle undici... Di solito dieci e mezza anche crolliamo, ma non vi voglio tediare con la mia vita familiare e spero di avervi un po' messo il dubbio, ok? Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se volete approfondire tutti questi temi sul guadagnare di più, sul business online, iscrivetevi a questo canale. In descrizione trovate un sacco di link utili ad altri video, ad approfondimenti, opportunità di guadagno in modo passivo. Guardatevi i video, se volete prendete una consulenza, trovate la mia mail in descrizione, se volete lasciare, se iniziate a credere e quindi volete vedere bene. Venite in consulenza, posso aiutarvi a capire quale business online è meglio per voi, quale modello di business, posso anche fare qualcosa per voi, sto aiutando anche in maniera con pacchetti done for you molti di voi. Quindi contattatemi per una consulenza e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!